E allora che dice? Ha portato il nostro messaggio? Scott verrà a liberarci. Bell'amico. Con tutti i favori che gli abbiamo fatto, non c'è più gratitudine a questo mondo. E come facciamo a sfuggire a quell'orribile morte? Ehi Dick, guarda. Hai visto quello che ci preparano? Forse almeno la sedia elettrica. Invece quei pali. Ecco la fine che faremo. Accidenti a quando ti è venuta l'idea di rubare quell'oro. Cosa ha detto? È venuto a farci le condoglianze. Grazie.